Dopo tanta attesa, finalmente è arrivato il momento dell'elezione del Presidente del Comitato Porto, un'elezione molto importante perché è un'istituzione che serve ad Urtona, vero Sindaco Dottavio? Esatto, finalmente siamo riusciti ad eleggere il Presidente del Comitato Porto e anche l'Ufficio di Presidenza. Questo è un organismo consultivo che si rapporta con l'amministrazione per tutte le problematiche, problemi inerenti al nostro porto e faccio gli auguri al neopresidente Ennio Tiberio e anche all'Ufficio di Presidenza. Auguro veramente a questa squadra di poter risolvere molti di questi problemi, ma soprattutto per apportare all'amministrazione idee, progetti che possono ovviamente far sì che questo nostro porto davvero riparta la grande. Il Comitato Porto che si è riunito questa sera era composto sia da politici locali che da tecnici. Franco Musa, per esempio, è uno dei consiglieri comunali che rappresentava la minoranza insieme a Giulio Napoleone all'interno di questo Comitato Porto che ha eletto appunto il Presidente dell'Ufficio di Presidenza. È soddisfatto dall'esito di queste elezioni, Musa? Certamente soddisfatto. Per la prima volta forse il Presidente e l'Ufficio di Presidenza è rappresentata da gente che sul porto e con il porto lavora. Quindi le persone giuste al posto giusto che sapranno sicuramente fare le proposte giuste a questa città e non lasciare questo campo solo e sempre alle solite persone. Per la prima volta le persone parlano di quello che ne hanno competenza. Ennio Tiberio è stato appena eletto come Presidente del Comitato Porto di Ortona, una istituzione di cui si sentiva la necessità e della quale ci facciamo spiegare le finalità dallo stesso neoeletto e quali saranno innanzitutto le prime mosse. Ringrazio i componenti che mi hanno eletto perché penso che hanno fiducia in me e cerchiamo di fare qualcosa di positivo e qualcosa immediatamente perché nel nostro porto adesso abbiamo bisogno veramente di qualcosa di concreto. Ringrazio di nuovo i componenti. Achille Bottega fa parte eletto anche lui oggi nell'aula consigliare dell'Ufficio di Presidenza. Quali saranno gli argomenti dei primi incontri in cui vi riunirete voi del Comitato Porto? Ci sono delle priorità che sicuramente andranno analizzate ma la lista delle necessità per il porto è nutrita quindi nella prima riunione di insediamento faremo il punto della situazione e faremo una scaletta che poi naturalmente condivideremo con la cittadinanza. Un altro dei componenti del Comitato Porto è Tommaso Caraceni, lui è un tecnico e quindi può meglio spiegarci quali sono le priorità di questo porto che è indubbiamente da rivalutare. Lo abbiamo visto anche nel recente convegno al Polo Eden, soprattutto per i mercati dell'Est. Sicuramente la priorità è quella del dragaggio per dare la possibilità a nuove compagnie di poter lavorare con pescaggi maggiori per il porto. Poi c'è il piano regolatore e ci sono tante infrastrutture tipo la diga Forania Sud che deve essere realizzata e anche un po' la manutenzione generale di quello che è lo scalo portuale e creare delle possibilità e delle alternative anche rispetto ai porti limitrofi. Franco Ricci è un altro dei componenti dell'ufficio di Presidenza, si occupa di cooperazione ma la sua elezione è più incentrata sull'aspetto della pesca e quindi dei tanti lavoratori che appunto sono operanti nel porto di Ortona. Per loro che cosa si può fare? Ma diciamo che la pesca sta avendo dei momenti un po' bui, cupi come tutti gli altri settori. Certo risentiamo molto di più il problema perché comunque non abbiamo forza lavoro questo è l'handicap che preme molto sulle imprese di pesca. Dobbiamo risolvere il problema della commercializzazione quindi la vendita è importante perché comunque abbattendo il discorso di filiera sicuramente le imprese godranno dei vantaggi perché i costi fissi comunque non si possono abbattere diciamo il costo del gasolio, il costo del personale e quant'altro. Quindi stiamo lavorando molto su questo discorso, abbiamo costituito anche il GAC che è un gruppo di azione costiera proprio per valorizzare le nostre produzioni. Quindi il Comitato Porto può dare un grosso input per aiutare anche questa categoria. Claudio Piccini è uno degli altri quattro componenti dell'ufficio di Presidenza lui è un tecnico che si occupa della parte delle piattaforme petrolifere quindi un argomento che comunque anche ad Ortona tiene banco però in concreto quale potrebbe essere il suo apporto? Prima di tutto tengo a precisare che è la prima volta che faccio parte di un Consiglio di Presidenza. Io come ho già detto sono un tecnico petrolifero vorrei dare il mio contributo su alcune questioni importanti che sono rivolte sul porto di Ortona tipo gli insediamenti petroliferi e robe varie. Quindi cercherò di dare un contributo per la parte migliore che possa essere per il porto di Ortona e per i cittadini ortonesi. Grazie.